Grazie a tutti i miei personaggi e al nome del governo britannico per i messaggi di solidarietà che le hanno permesso della Presidente della Romania, della Prima Ministra, membri del governo dell'euro da ci di la vammani obesnuiti. A cioè com a subliniat premierul Britannic Theresa May acest act terrorist, lipcit di orice scrupule, jeste uno dell'incele mai tragice incidenti di acest gen petrecute in Mare o Britannia, ci un mod cert cel mai senguros di Manchester. Attacol terrorist a fost intumpenat di coraggio servicilor di ogenza si al oamenelor din Manchester. Ceva Romine in urma tragedie di luni siara este spiritul de ne-infrint al oamenelor din Manchester si din Marea Britannia. Acest spirit nu poate fi in frint nici a cum, nici in viitor. In present, nivel de alerta terrorista a fost ridicat la critic cia ce inseamna ca un alt attack poate fi imminent. Ca masura de precauzie, numerul di polizist si soldats trimits sa sigure securitatia pubblica a fost crescut semnificativ in toata zara per perioada neindedeterminata. Grazie. 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 Grazie.